Ciao a tutti i congressisti FNOPI, sono Chiara Burzi, sono un'infermiera di Medici Senza Frontiere. Lavoravo nella provincia di Torino come infermiera in rianimazione e da sette anni ormai lavoro e collaboro con Medici Senza Frontiere. Perché ho iniziato a collaborare con Medici Senza Frontiere? Il desiderio era grande quello di aiutare la gente più in difficoltà fuori dall'Italia, nei paesi in via di sviluppo. E una volta che ho iniziato con una prima missione, beh, mi sono innamorata di questo lavoro e non ho più mollato. La possibilità di lavorare come infermiera in Medici Senza Frontiere sono delle possibilità molto vaste, molto ampie. Faccio di tutto, dalla infermiera clinica al manager, quindi dirigo gruppi di infermieri, dirigo degli ospedali, sono anche responsabile della farmacia, responsabile della formazione e anche responsabile del team medicale. Ho avuto parecchie esperienze che lavorando in Italia non avrei mai avuto, come per esempio lavorare in epidemie di ebola, epidemie di difterite, questa qua sono in Bangladesh, vi chiamo dal Bangladesh in questo momento, epidemie varie come il morbillo e il colera, ma anche disastri naturali, quindi nelle Filippine, per esempio Haiti, dopo l'uragano, ma anche in guerra. Sono stata in Siria, in Ucraina e l'anno scorso in Iraq. Sono delle esperienze che appunto in Italia non avrei mai potuto avere, che con Medici Senza Frontiere invece posso crescere, posso vedere delle realtà che mi sarebbero precluse. Vi auguro un felice congresso e collaborate anche voi con Medici Senza Frontiere andando sul sito di www.medicistenzafrontiere.it nella sezione Lavora con noi. Un bacio!